Io sono qua per Giuliano Giuliani e questo deve essere chiaro perché Giuliani è una bandiera che tornerà a sventolare sul municipio della città, ha lasciato un ricordo straordinario. All'epoca noi Messine parlavamo in tutta Italia di questo sindaco, quindi insomma sono molto contento di essere qui. L'Europa certo si è dimostrata matrigna nei confronti dell'Italia del Mezzogiorno. C'è bisogno di una rappresentanza che abbia la capacità di scardinare vecchi assetti. Noi sosteniamo con forza quello che è stato il deputato europeo più attivo e più presente in questi cinque anni, un pugliese Sergio Silvestris. Spero che col suo comportamento generoso riesca a dare forza alle ragioni del lavoro, alle ragioni dell'agricoltura, alle ragioni di una terra che per troppo tempo è stata abistrattata. Oggi il tema vero è come comportarsi rispetto all'Europa, non rispetto a un presidente di commissione. L'Europa deve capire che ci sono anche i diritti sociali.